Nove misure cautelari personali e reali sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Catania nei confronti di nuove indagati a vario titolo anche per sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa su prodotti energetici. Nel provvedimento il GIP su richiesta della procura distrettuale contesta anche i reati di frode fiscale in debita compensazione d'imposta con crediti inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA, falso in atto pubblico, intestazione fittizia di beni e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Per quattro degli indagati il GIP ha disposto la detenzione in carcere, per due gli arresti domiciliari e per tre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ha anche disposto il sequestro di beni per 28,5 milioni di euro ritenuto il danno complessivo subito dall'erario. Al centro delle indagini dell'operazione Petrolio Fantasma del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania ci sono diverse imprese delle province etnea di Palermo, Trapani e Siracusa operanti nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Personaggio indicato allo stato dell'inchiesta dalla procura di Catania come figura centrale di un collaudato sistema di evasione delle accise e dell'IVA sarebbe Sergio Leonardi che, contesta l'accusa, con altri soggetti a vario titolo concorrenti avrebbe realizzato dal 2018 al 2021 condotte di frode fiscale commercializzando ingenti quantitativi di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione senza versare le relative imposte. Per commettere i reati e la tesi della procura di Catania sarebbero state utilizzate società cartiere e prodotti petroliferi destinati agli esportatori abituali ma in realtà immessi in consumo nel territorio nazionale oltre a crediti di imposta inesistenti e uso commerciale per aziende di trasporto compiacenti di gasolio agricolo sottoposto a tassazione agevolata. Una prima tranche delle indagini del nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania era sfociata in otto arresti nel sequestro di oltre 80.000 litri di prodotti energetici di illecita provenienza e di sette autocisterne.